Sta cominciando a venirmi un pochino di sete Però vado a bere dopo, adesso c'ho il gameplay da fare Oh, questo è un livello, l'odio Ma ad un certo punto ci sono le supercariche, no, no, l'odio questo, non mi piace Spero che la libellula era impegnata e non mi ha preso le gemme, è brutta, dronza No, no, non mi piace questo Da una parte è meglio se l'ho fatto subito, così me lo levo dal coglioni Ho un'altra farfalla, così sei carica del tutto Allora, lì c'è un terrazzino, però a questo punto mi conviene continuare sopra Ma sì, dai, finiamo il giro da sopra poi vedo Uffa, uffa, uffa Allora, lì sotto vedo dei tesori Però prima andiamo a vedere cosa c'è qua Niente, lì dovrebbe essere il punto di inizio Niente, allora andiamo giù di qua, dai Vediamo da dove risbucco Ah, è lo stesso terrazzo che vedevo da sopra Adesso non posso più andare da nessuna parte Quindi andiamo giù Provo a ritornare su, perché non sono sicura che fosse lo stesso terrazzo Ma vaffan, sì, vaffanculo E questo da dove cazzo è venuto fuori La clava è invisibile, ma vabbona Cinquecento Oh my fucking god Oddio Allora Ah no, cazzo, ho sbagliato Non dovevo volare di qua Dovevo ricontinuare il giro Allora facciamo una roba di sto genere Ritorno lì giù Sono a posto in teoria Sì, ok, adesso rifaccio il giro e tutto Non devo volare, ma Perché trovo un dubbio che quel terrazzo sia lo stesso In cui sono stata prima Quindi, oh Dio Quindi, diviamoci ogni dubbio e andiamo No, è diversa Marisa strusona Questa era vicina Ale, dritta in piscina Ma vaffanculo No, no, devo riprendermi Mi sto giocando un po' da schifo Verita in piscina Abbiamo tutti i posti che c'erano Allora andiamo a ricollegarci qua Va Fatto Sì Ok, avrò il vato e torno all'inizio Perfetto Dato che ci sono Prendo una farfalla per la vacca qua Perfetto Ma andiamo avanti Dai, dai, dai Gervis Benvenuto a Wizard Peaks Il mio punto preferito per la supercarica Puoi usarla per abbattere quei maghi Eh, il tuo punto preferito per la supercarica Allora, c'è un livello ancora peggio di questo Più avanti Che si chiama Treetops Quello è Uh Quello sarà uno spasso Cioè, forse non è andata a sbattergli contro con la supercarica Boh, beh, vabbè, va a capire Allora, andiamo prima in esplorazione che non mi ricordo Proviamo Io provo al limite E qua di sicuro c'è da prenderne due Visto che c'è una semi-rampetta C'è da prenderne due E poi volo fino all'altro Ho qualche dubbio Vabbè Eh, Cosmano, l'avevo già salvato, questo Grazie per avervi liberato Prego, ragione che Ma ogni tanto i draghi sono sempre gli stesi Cioè, lì libero si fanno rintrappolare Se non essere coglioni Ma io sento Gemme cadere a Go-Go Boh Boh, allora proviamo, dai Ma male che vada, perdo una vita Però Proviamoci, dai Sì, se non incontro capre nel mio cammino è meglio Ah, ok Questo era fattibilissimo Questo non è stato difficile Ok Sì Se volevo vedermi con la tastiera A fare sti punti Volevo proprio vedermi Allora adesso Vado un attimo qua avanti Se magari c'è C'è il modo di planare dall'alto Andiamo In esplorazione Così torniamo agli ultimi tesori qua Ma vaffanculo Allora in bordo piscina Non c'è nessuno Boh, ho preso tutto Saliamo l'ultimo drago Adesso ragiono su quello là Ascolta bene Spiro C'è un'area segreta Nella casa dell'artigiano È vicino alla cascata Prova a saltare su quelle pietre là Case dell'artigiano Cascata emozionante La casa dell'artigiano? Sì lo so C'è il volo Però caro Lucas Non farmi fretta Ci avrò dopo Allora Due uova Ah, capirla È là Non l'avevo neanche visto prima E l'altro è là Però devo andarci per forza Con la supercarica Eh Però di rampe Ma vaffanculo Di rampe Ne ho solo due Quindi devo riuscirci In qualche modo Magari Eh aspetta Provo da questa Magari questa mi porta più fortuna Chissà Proviamo 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 Perdono la vita Perdono la vita Perdono la vita Perdono la vita Ah Ma no Dai Era fattibilissimo Era proprio fattibile Dai Sento il cretino Che ride Ti diverti a stare qua Pirla Ok Ok 145 500 Si 100 445 500 Ma vaffanculo 495 500 Oh Ce l'ho fatta Buongiorno 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 perché ne ho fatto un bel po' di registrazione per oggi sono contenta un paio di livellini dato che ci siamo facciamo quello là così questa zona qua l'ho finita una volta per tutte ah non scappi allora meriti di morire ancora più degli altri perché non mostri alcun segno di pentimento allora è giusto che tu muovi soffio feroce ah è il boss perfetto così ce lo leviamo già dai coglioni fuochi d'artificio allora 400 e un drago perfetto niente di che io questi maghetti qua li odio preferisco quelli cicciotti più ciccioni questi qua piccoli mi stanno troppo sui coglioni ma nooo ce l'avete con il massacrarmi la libellula ah stupendo ma ti alzano tutto loro a piacimento ok uno è fatto abbiamo questi qua non sono particolarmente difficili basta solo avere un po' di sincronia bene 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 Altair prima c'era Ezio da Firenze grazie per avermi liberato Spiro non puoi sapere quanto tempo sono stato intrappolato nel cristallo poi non uso neppure io ma chi sei? non ricordo devo andare ah no prima non era Ezio era Enzo dai però dai se c'era Ezio era meglio oh cavolo sono già 200 quasi 250 adesso si sicuramente è corto sto livello ci si vuole ci si vuole ci si mette un attimo mori eccolo lì pezzente vieni giù se non hai il coraggio ok sta musica mi sta facendo saltare i nervi la tolgo e vaffanculo chissà perché tutte quelle dei boss sono alte mi dà un fastidio vediamo ah che bello via 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 a casa boh aspetta mi sono dimenticata di rimettere la musica da sto punto potevo tenerla fino alla fine ma dettagli allora la rimettiamo sì peccato che è tutt'altra musica ma dettagli allora aspettate un attimo vado faccio una piccola pausa poi e provo a risettare il gioco a vedere se me la mette a posto allora track così ne approfitto anche per darci una salvata che è da tanto che non lo faccio comunque torno subito provo a risettare ok vediamo boh c'è un'altra musica ancora io non so che cazzo farci allora facciamo una roba entriamo in un livello e vediamo se si sistema la musica non so umanamente cosa fare boh allora andiamo andiamo in questo dai che è il primo catena alpina vediamo se si sistema tutto boh ok dai sembrerebbe essersi messo a posto speriamo pirla chi e sto facendo per cazzo vieni fuori boh mi arrivano mostri giganteschi addosso questo me lo anche questo livello me lo ricordo gran poco se devo essere onesta catena alpina boh ok l'ha fatto tutto zin o zane grazie per la fiducia è pezzo di merda ma no non voglio salvare vaffanculo ma no no ne odio ne odio ste cose oddio 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 cazzo a cico a pelo l'ho fatto amo vivere pericolosamente allora 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 lì c'è una cavernetta e poi guarderò e poi guarderò come come arrivarci intanto andiamo avanti con il draghi e prendiamo un po' di tesoro grazie per avermi liberato il tono di questo qua non mi convinceva molto secondo me dentro il cristallo stava facendo altro oh grazie beh di niente aspetta che ho visto eh infatti me la sono dimenticata che dopo mi mancano 5 e comincio a bestemmiare in turco ma se sono io che sono distratta 500 e anche un uovo di drago c'è a questo livello non saprei assolutamente dov'è oddio allora da qua posso ritornare e planare là perfetto quindi prima salviamo il drago qua poi c'è quella prima vado nella caverna giù degli strego vai tra beccio il mondo degli strego ma che cazzo ti incazzi che cazzo ti incazzi la musica noto che continua a far casini maledetta io che l'ho messa off potevo tenerla a ono a sto punto ah sto recuperando un po' di vite che bellezza buona adesso dovrei riplanare di qua e qua ritorno all'inizio del livello mi manca mi manca quella zona là della caverna però da come la raggiungono qua aspetta che andiamo a darci un occhio ah ma c'è anche quella parte lì la musica si interrompe e si ricomincia da sola ogni tanto boh beh vabbè comunque dovrei farcela da qua yes si si ridi 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 che adesso vengono a pularti no ti ho mancato miseramente adesso adesso no pezzo di manadana andiamo a prendere una capretta dio 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 questa era vicina adesso manca quella caverna lì però da qua non ce la farò mai ce la farò veramente mai a parte che ho anche i miei dubbi che io riesca a planare fin lì però ci proviamo anche perché non ho alternative ah ma aspetta pirla non è la caverna che ho visto prima questa qua eccola l'acqua che intendevo io e là non ho altro da fare che planare dall'alto là non ho altra scelta dalla sopra eh sì lì la raggiungo dalla sopra per forza sì là è un bel punto in effetti ce la faccio sì dai ma andiamo sento nè 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 sicuramente sarà nella caverna allora ho esplorato tutto sì ce la faccio una stragrande hai voglia aspetta c'è il pirla qua boh pregato boh dovrei aver finito anche i draghi ricordati che questi ladrigi non hanno rubato uova solo nel mondo degli stregoni non preoccuparti ci penso io le ho già prese tutte i livelli che ho fatto ciccio se fossi più aggiornato invece di farti le pipe nel cristallo sarebbe meglio allora 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 è che adesso io accendendo la miccialini rischio che mi esplodano è il culo quindi aspetta che ci metto un minuto di più ma non voglio morire così l'abbiamo finito anche perché faccio questo livello poi basta perché sono stufa morta Agri ok speriamo che quello sia da 10 sì lo vedo è gialla la ginnetta perfetto mamma il lag mi stava facendo cannare il salto no no basta per oggi sono stufa andiamo via e vado avanti prossimamente prossimamente vado avanti domani vabbè voi non mi puoi fregare di meno tanto lo vedete a parte ma a me frega un pochino boh allora oddio vedo le uova doppie è tutto doppio lol adesso è tutto normale sì mi manca un livello e ho finito anche qua benissimo cavolo vendita contro questo bello ragazzi vi saluto grazie come al solito per la visione grazie mi cuore è tutto grazie ti fettini su facebook e voi qua basta con i convenevoli stacco alla prossima ciao ciao